eccoci ragazzi siamo qua ecco tommy oggi c'è un vento della madonna quindi non so quanto potete sentire però vabbè abbiamo già incominciato da un po da una quindicina di minuti io ho preso una bella trota tommy ha sdamato a una e niente si continua madonna madonna che bestia vai to a lancici sopra ecco cambiamo posto andiamo con tommy un po' un po' un po' un po' un po' un po' l'ho preso no non ci credo mentre stava veni qua non ci credo cazzata nera è incazzata nera mentre stavo ritiro il filo per veni qua incredibile 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 che cavolo ho fatto madonna mamma mia questo ragazzi questo qua aspettate questo qua e lo spunco fatto io questo qua l'ho colorato l'ho modellato l'ho fatto io da una lastra d'acciaio inox e sto lavorando a fare un video per farvi vedere come si fa la ma è una cosa di incredibile che che spettacolo che spettacolo no di qui sotto ma data io ce l'ho sempre il video Thomas magari ste parole e non ragazzi ma anche tu le fai salta Diego Spoon incredibile oh è incazzata nera te l'ho detto devi mettermi Spoon Diego Spoon Diego Scudo c'è ragione oh non vuole venire qua ma secondo te è colpa mia eh ma io in centro eccola ragazzi via vai vai bravo non ti piace c'è un altro che spu enorme enorme ho preso un tonno aspetta che ritiro ho preso un tonno aspetta che ritiro aspetta che ritiro ho preso qualcosa di incredibile die non è parte da die si sta soppreso ma die è è una carta no no è una carta ma serio tu die ma lo vedi quanto lo tira lo vedi la carta guarda tu non hai capito quanto sta tirando ma è impiantata sul fondo oppure si si è impiantata è Namur è Namur è Namur a spinning con lo Spoon guarda c'è la frizione mi è partita a razzo si è sentita pure c'è una trota di 3,5 kg si la slama ti prego Gesù ti prego Gesù ti prego ti prego si di Diego l'ho fatto io l'ho fatto io lo Spoon è una trotta enorme no è una trotta grande si buona ragazzi adesso faccio un negozio mi metto a fare gli Spoon del lavoro è il filo piano piano tira basso tira basso se gli levi l'amore alla bocca dopo uno anche due quanto cazzo tira quanto tira no no cazzo te l'ho detto ma carli c'è la frizione poi la ce l'ha rotta ce l'è? è grossa no vabbè un'altra volta ma è grossa? no non fa così no è dietro è dietro è dietro è non eh ma eh ma vedi che gli Spoon di Diego sarancano no no porca puttana no aspetta c'ho uno Spoon dentro l'acqua guarda che culo guarda che culo ma se perdi anche questa laver chiappa dentro l'acqua io sto calmissimo ma guarda non gli sto a parte che c'è un mulinello che dico fa più casino del motore della macchina si tu c'è un buco di culo grosso come una casa parli tu anzi no è il mio perché ti ho dato il mio di Spoon si eh Thomas sto sentendo dei rumori bruttissimi che rumori belli c'è il mulinello che è un pistone di una macchina ma ne è grossa ma mi hai fatto smettere pesca per sta cacatina to guardinela da te vabbè ne puoi tanto ma lui lo tiene ora si tocciona si eccola no non è piccola no è normale cioè è un pochino più grassa rispetto alla media tanti cazzo lo su un'autocostruita di Diego come vedete questo è il Diego sculo tu c'è un culo la pesca ma c'è una cosa del credito